Viabilità in tilte, ieri sera in via Colonnello Scremin, lungo la provinciale 248 Schiavonesca Marosticana. In una cisterna trainata da un trattore si è aperta una profonda crepa ed ettolitri di liquame hanno invaso la careggiata. A dare l'allarme è stato lo stesso conducente, immediato l'intervento di polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Per liberare l'asfalto dal liquido maleodorante è stato necessario l'intervento di una ditta specializzata. Grazie a tutti.